Ma attenzione! Perché dici di non farci maestri esterni? Commento. Perché l'unico maestro di ognuno è il suo maestro interno. Se non potete fare a meno di un maestro esterno, createvelo. Ma se avete la variante che vi permette di non farvi il maestro esterno, scegliete la variante e non createvi un maestro esterno. Ma attenzione! Chi si crea la variante se non voi stessi?